... Buonasera e bentrovati con l'informazione di Teleroma 56. Dopo il maxi rogo di ieri a Castelfusano, continua il lavoro dei Vigili del Fuoco per spegnere tutti i focolai che si sono accesi nell'area. Intanto la Procura indaga per incendio doloso i servizi di Armando Luca Fioretti e Fabrizio Massantini. Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco. ...ripercorre la giornata e poi l'intervista responsabile della protezione civile. Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo della pineta di Castelfusano a Ostia che si è sviluppato ieri pomeriggio. Questa mattina erano presenti ancora dei focolai In tutta l'area del Lido di Ostia continuano i problemi di viabilità a causa delle strade chiuse a seguito dell'incendio. Intanto la Procura di Roma indagherà con l'ipotesi di reato di incendio doloso. A Pezzale Clodio sono arrivate le prime informative su quanto accaduto nelle carte del procedimento. Anche la posizione del 22enne di Busto Arsizio arrestato ieri. Nei suoi confronti verrà chiesta oggi al GIP la convalida dell'arresto. Il rogo appiccato nella pineta di Castelfusano sarebbe stato innescato da mani inesperte e questo, secondo quanto si apprende, potrebbe far supporre che non esista un'organizzazione che abbia pianificato i vari incendi divampati nella zona nelle ultime settimane. Il giovane arrestato dai carabinieri, un idraulico residente a Ostia, aveva con sé dei fazzolettini di carta e un accendino. La sua individuazione è avvenuta nel corso di una prelustrazione con l'elicottero. Intanto sempre sulla vicenda di Castelfusano, oggi è intervenuta la sindaca per smentire l'ipotesi di una polemica tra Regione e Campidoglio. Continua una grandissima collaborazione e cooperazione da parte di tutte le forze interessate, quindi Servizio Giardini, ma anche Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto questo ho letto che ci sarebbero state delle polemiche tra me e la Regione. Volevo chiarire, approfitto di questa sede, per chiarire ulteriormente che non c'è alcuna polemica o alcuna frizione con la Regione. Stiamo tutti lavorando, ciascuno all'interno della sfera di propria competenza, per riuscire a gestire una situazione che evidentemente è estremamente grave e preoccupante, ma che ci vede tutti coinvolti H24. Confrontavo proprio i dati questa mattina. A ieri siamo a 1.463 ore di volo dall'inizio dell'anno, a fronte di un ore volo nel 2016, nello stesso periodo, che ne si attesta intorno alle 350 o 400. Il Presidente della Regione Zingaretti ha già firmato e inviato al Governo la richiesta dello stato di calamità rispetto all'emergenza incendi nel Lazio. I numeri del resto parlano chiaro. Si parla di una quantità di roghi e di una quantità di interventi profusi da protezione civile e vigili del fuoco superiore del 600% rispetto a un anno fa. Anche stamani, nonostante il picco si registri quasi sempre nel pomeriggio, il centralino della SOUP, la sala operativa unificata permanente, il caso di dirlo è bollente, migliaia di telefonate, 6-7 operatori di protezione civile organizzati in turni da 12 ore, tra i vigili del fuoco, due uomini del Campidoglia al lavoro H24 per raccogliere e smistare le segnalazioni di cittadini e associazioni. Un responsabile di sala decide nei casi di maggior gravità, ad esempio vicinanza del rogo al centro abitato, se allertare i vigili del fuoco, se invece intervenire con le proprie 300 squadre su 500 totali che svolgono anche attività anti-incendio. La Regione Lazio è una delle poche regioni ad avere una propria forza aerea, ma i Canadair con 6.000 litri di acqua di portata da scaricare sui roghi accesi dipendono dal Dipartimento Nazionale dei Pompieri. I numeri, lo storico di questa campagna anti-incendi, attiva dal 12 giugno fino al 30 settembre, comunque già oggi non lasciano spazio a dubbi. Siamo in presenza purtroppo di un'estate record, anche peggiore dell'ultimo vero anno sorribili, se il 2007. Ce la facciamo grazie solo e soltanto al fatto che i volontari sono un esercito veramente che non conosce stanchezza e non conosce pause o riposi. Noi dall'inizio dell'anno, anzi nei soli mesi di giugno e fino ad oggi, abbiamo totalizzato gli interventi di circa 3.000 squadre di volontari su terra. Ormai ci avviciniamo alla soglia dei 1.900 incendi, stiamo camminando a numeri assolutamente preoccupanti. Tanti incendi molto spesso vasti e con una velocissima propagazione. Molto spesso quest'anno si stanno fronteggiando roghi cosiddetti di interfaccia, quindi a pochi metri dei centri abitati. Uno sforzo enorme, quello dei soccorsi in questi tre mesi, è negli altri nove che forse si dovrebbe fare qualcosa in più. In termini di constatazione purtroppo c'è ben poco da dire, ma è sufficiente guardarsi intorno. Purtroppo vediamo dei ritardi, a voler essere ottimisti nell'attività di manutenzione del verde, che è, come ho detto più volte, benzina per questi incendi. Dunque questo è il punto della situazione, stando alle parole del direttore dell'Agenzia della Protezione Civile del Lazio. Apertura del Messaggero, che ovviamente si concentra su quel che resta della pineta di Castelfusano, che definisce la ferita di Roma. Questa l'apertura del Messaggero, che è titola The Day After, recitazione di un film apocalittico della fine degli anni Ottanta. Effettivamente, come vedete dalle foto, lo scenario è tale. Poi l'iter regione raggi sui soccorsi, e poi arriva qualche indiscrezione, insomma dalla Procura, le mani della malavita sul business del verde. L'idraulico piromane copre i suoi complici. Di questo e non solo, parliamo con l'ospite di questa sera, il sindaco di Ciampino, Giovanni Terzulli. Buonasera e ben trovato. Buonasera a tutti. Dunque abbiamo detto incendi e non solo, perché in quell'area, in quella zona, c'è anche la piaga dei cosiddetti roghi tossici provenienti dal campo della barbuta, che effettivamente condizionano e tormentano anche la vita di quel quadrante, di quella zona. Beh, sì, noi non possiamo parlare di emergenza e incendi nel nostro territorio, ma parliamo di costanza e incendi. Nel campo nomadi della barbuta, che si trova a Roma, ma ai confini con Ciampino, l'anno scorso anno abbiamo avuto, sono stati registrati circa 140 incendi durante tutto quanto l'anno. Quest'anno, a fine giugno, erano già oltre 40 incendi, e purtroppo luglio non è da meno, ma probabilmente peggiorerà le statistiche degli incendi che affliggono quel campo. Non questo lunedì precedente, è stato un grosso incendio che ha bloccato il raccordo anulare per diverse ore, un incendio che è stato difficile da domare, ha visto impiegati molti mezzi di soccorso, compresi la nostra protezione civile e i vigili del fuoco. A due passi tra l'altro dall'aeroporto... A due passi dall'aeroporto di Ciampino e chiaramente il fumo ogni tanto vede anche la chiusura dell'aeroporto e ci sono sicuramente difficoltà in atterraggio per tutti i voli che arrivano nella nostra città. Ecco, stando anche alla stretta attualità, alla stretta cronaca, intorno alle 18 un altro incendio. Sì, mentre venivo qui proprio per questa diretta, abbiamo visto passando vicino al campo un altro modulo abitativo che è andato a fuoco, quindi l'ennesimo che viene distrutto da un incendio lì al campo. Ecco, c'è da dire, come ha specificato, che voi non avete alcuna competenza su quel campo perché effettivamente è nel Comune di Roma, però che tipo di dialogo c'è con le altre istituzioni? Che cosa si può fare? Quali margini operativi ci sono? Sì, purtroppo quel campo è nel Comune di Roma ma i confini aerei non esistono e quindi i fumi arrivano nel nostro territorio. Devo dire che da quando c'è una giunta, diciamo, una nuova giunta su Roma, in modo particolare il settimo municipio a guida di Monica Lozzi si è aperto un dialogo con la Presidente del Municipio che sta cercando di lavorare sul campo per intervenire in diversi modi, sia con la pulizia del campo, l'eliminazione dei rifiuti che purtroppo quotidianamente aumentano in quel campo ma anche si sta cercando di lavorare proprio per il contrasto a questi roghi. Quindi devo dire che c'è una collaborazione, un impegno della mini-sindaca della Lozzi su questo momento. Una sorta di tavolo permanente poi sostanzialmente si deve dialogare costantemente. Assolutamente, ci vedremo nuovamente venerdì proprio per parlare di sicurezza su quel campo e per cercare di trovare le metodologie giuste per ridurre i roghi. Io mi rendo conto che chiudere il campo non è una cosa che si fa in pochi giorni o in poche settimane. Anche perché poi rientra nel famoso piano nomadi, si inizia dalla barbuta alla monachina però è troppo tardi per voi insomma. È troppo tardi, è troppo tardi. Bisogna trovare soluzioni in fretta. Esatto, si inizia dalla barbuta anche perché è un campo che dal 2015 ha un'ordinanza del Tribunale di Roma che impone a Roma Capitale di chiudere quel campo però i risultati saranno a lungo termine. Dal 2020 si parla delle prime chiusure e le prime persone che usciranno ma noi i roghi abbiamo bisogno che finiscono subito e non nel 2020. E a proposito di questo la sindaca di Roma Virginia Raggi è stata ascoltata la scorsa settimana alla Camera dei Deputati per riferire sulle condizioni in cui versano le periferie della capitale. Al centro d'attenzione anche appunto l'emergenza a roghi tossici e su questo tema ha preso posizione Fabio Rampelli attaccando il Campidoglio. Sentiamole e poi commentiamo in studio. Mi sono permesso di dire al sindaco Raggi in una fase in cui torna per l'ennesima volta l'emergenza a roghi tossici con i cittadini che abitano in periferia che sono costretti a chiudere le finestre nonostante la calura estiva e comunque hanno i bambini che giocano in mezzo alla strada e respirano di ossina di fare semplicemente quello che gli compete perché questi roghi da dove escono? Dalla rifurtiva che viene bruciata dai frigoriferi dalle lavatrici che vengono portate purtroppo anche dai cittadini italiani quindi lei ha la competenza dell'AMA deve dire all'AMA in seduta stante di andare immediatamente nei campi nomadi a togliere il combustibile cioè a sgombrare dai rifiuti ingombranti i campi nomadi così come deve mandare il servizio giardini è vero che è stato praticamente scassato ci sono solo 175 addetti nel servizio giardini rimandasse tutti nei campi nomadi a fare lo sfalcio dell'erba perché se si sviluppa un incendio questo incendio con l'erba alta intorno diventa un'emergenza mentre potrebbe essere comunque contenuto con una manutenzione decorosa della terra che sta intorno ai campi nomadi ovviamente questo significa inquinamento anche dei territori circostanti spesso coltivati e quindi potenziale inquinamento per tutte le coltivazioni che poi finiscono sulla tavola dei cittadini romani e non solo quindi gli abbiamo dato dei suggerimenti non c'era nessuna lesa maestà non c'era nessun insulto poi lei ha spiegato dal suo punto di vista che non poteva farlo sinceramente non mi ha convinto perché Lama è proprietaria il Comune di Roma è proprietario dell'Ama al 100% il servizio giardini è addirittura un servizio interno al Comune di Roma quindi non credo che sia impossibile sarebbe comunque un segnale in ogni caso un segnale importante che sarebbe particolarmente apprezzato dai cittadini delle periferie Sindaco Terzulli lei ha invocato il DASP urbano per i responsabili di questi roghi tossici strumento normativo introdotto tra l'altro dal Ministro Minniti Sì è questo nuovo strumento che permetterebbe diciamo di allontanare le persone che si sono diciamo che si colgono diciamo in fragranza di reato ma anche persone che diciamo ipoteticamente possono essere coinvolte diciamo in questi incendi facendo un DASPO per impedirgli l'accesso a questi campi questa è una possibilità normativa che esiste che secondo me sarebbe usata come probabilmente si potrebbe studiare di poter applicare la normativa legata alle zone alla terra dei fuochi in campagna si potrebbe anche applicare i campi nomadi della nostra diciamo di Roma Ecco lì nella barbuta com'è la situazione un solo ingresso è presidiato ci conferma? C'è un ingresso presidiato da una macchina della polizia locale di Roma Capitale e questo ingresso fu diciamo presidiato dopo una visita che feci io insieme al prefetto Gabrielli più di un anno fa sul campo immediatamente il prefetto attivò questo presidio però il presidio non ha l'ordine di entrare all'interno del campo ma semplicemente rimanere all'ingresso però esistono anche degli ingressi laterali al campo che permettono l'accesso pedonale questa volta da altre parti che non sono assolutamente controllate ma spesso diceva alcune cose di quelle che diceva Rampelli io le condivido spesso gli nomadi danno fuoco ai rifiuti diciamo non bisogna per forza andare a pensare che si bruciano rifiuti tossici o scarti che vengono consegnati lì ingombranti che vengono portati da altri cittadini anche italiani lì spesso vengono bruciati i rifiuti domestici del campo perché per lungo tempo Amano è andato a ritare i rifiuti perché non c'è riuscito ad entrare perché per mille motivazioni e quindi si accumulavano i rifiuti lì intorno al campo e veniva dato fuoco a quel tipo di rifiuti quindi non bisogna andare per forza a cercare la criminalità su questo aspetto ma alcune volte anzi spesso è banalmente l'incegno dei rifiuti quotidiani che vengono prodotti da 700 abitanti del campo Amano la preoccupazione maggiore per i cittadini ovviamente è la qualità dell'aria in questo senso lei ha chiesto un intervento dell'ARPA per analizzare sì abbiamo chiesto un intervento ad ARPA e ad ASL abbiamo chiesto di monitorare la qualità dell'aria della nostra città che è chiaramente una città in difficoltà da questo punto di vista perché comunque siamo vicino a Roma vicino a una zona molto inquinata è quella di Cinecittà che è una delle centraline di Roma più inquinate come lo è d'altronde purtroppo anche la centralina di Ciampino abbiamo un aeroporto siamo attraversati da diverse arterie veicolari tra quella che i delaghi e la via App abbiamo un traffico cittadino molto intenso e quindi la qualità dell'aria è uno dei talloni da chille della nostra città e questi rochi tossici purtroppo sono un peggiorativo di questa situazione ecco veniamo a un altro inquinamento acustico in questo caso ovviamente il riferimento all'aeroporto di Ciampino all'aeroporto Pastine da anni comitati di quartiere e associazioni si battono qual è allo stato attuale la situazione in questo momento c'è un tavolo aperto al Ministero dell'Ambiente proprio per valutare la proposta di ADR e ENAC per rientrare nei limiti del rumore dell'impatto acustico che vengono imposti dalla legge e dai piani regolatori acustici approvati dal comune di Roma Marino e Ciampino ormai se non sbaglio 7-8 anni fa l'ADR ha avuto altri 10 giorni per dare delle nuove indicazioni su delle osservazioni che erano state fatte da Ispra che è l'ente che sta valutando tecnicamente per il Ministro dell'Ambiente questa procedura al termine della quale il Ministro dell'Ambiente si esprimerà e probabilmente andremo verso un taglio dei voli a partire dal 2020 che nei nostri auspici farà riportare l'aeroporto di Ciampino nei limiti imposti della legge adesso c'è chiaramente una trattativa in corso diciamo non una trattativa ma una richiesta di chiarimenti su quello che è la proposta fatta da ADR che non convince pienamente i tecnici e quindi si sta lavorando per cercare di renderla il più convincente possibile e per renderla efficace per la riduzione di questo rumore ecco ricordiamo in questo senso che poi c'era stata una sentenza del Tar del Lazio che non riduceva non consente voli notturni a prescindere ma amplia solo la possibilità di effettuare atterraggio oltre le 22 in caso però di guasto tecnico si su questa cosa però purtroppo c'è un'interpretazione un po' larga da parte di train air sulla questione del guasto tecnico cioè loro ritengono che se un aereo ha avuto un guasto prima di partire per loro è comunque un guasto tecnico e quindi a quel punto hanno la possibilità di atterrare su Ciampino anche dopo le 23 cosa che sarebbe vietata e quindi in questo caso purtroppo ci sono dei voli notturni quotidiani che chiaramente impattano in modo più alto sulla cittadinanza perché ogni volo a ogni atterraggio notturno equivale a circa 10 atterraggi diurni come impatto acustico sulla qualità della vita delle persone resta però il divieto per i voli commerciali dalle 22 alle 6 sì resta questo divieto per i voli commerciali chiaramente i voli di Stato invece non hanno nessun tipo di limitazione così come i voli sanitari come è giusto che sia che tipo di dialogo c'è con le associazioni i comitati di quartiere come si sta lavorando in questo senso c'è un dialogo c'è un confronto la posizione di questa amministrazione è quella della ferma richiesta del rientro immediato del ritorno alla legalità di questo aeroporto noi cerchiamo di fare un po' da ponte tra le istituzioni e i comitati qualche volta ci scontriamo qualche volta andiamo d'accordo ma insomma l'obiettivo è unico è quello di rientrare nella legge per il nostro aeroporto chiudiamo con una bella notizia perché oggi è arrivata la notizia di questo protocollo per la tutela degli animali le guardie zoofile in particolare ci spiega di che sì a breve inizieranno un servizio di guardie zoofile all'interno della nostra città lavoreranno sia sulla tutela degli animali ma anche sulla prevenzione manualmente degli incendi sulla ricerca dei responsabili per quanto riguarda le discariche abusive e quindi faranno un controllo del territorio in modo volontario anche informativo nei confronti di quei cittadini che magari non usano il guinzaglio quando portano il cane non raccolgono le deiezioni canine e quindi creano un disagio per tutti quanti gli altri cittadini che però gli animali non li hanno grazie al sindaco di Ciampino Giovanni Terzulli buonasera grazie mille andiamo avanti con il telegiornale AMA vanta 100 milioni di crediti dalla pubblica amministrazione quanto emerge da un'indagine interna dell'azienda nell'elenco ci sono ministeri utenze militari di ospedali università e ambasciate vediamo nel lavoro di risanamento quello che recuperiamo è importante perché si trasforma in servizi AMA ha svolto un'attività capillare di verifica dei conti facendo emergere un credito di circa 100 milioni che la municipalizzata vanta nei confronti della pubblica amministrazione a parlare la sindaca Virginia Raggi in una scheda divulgata dal Campidoglio si legge che per Palazzo Chigi e i ministeri il totale degli importi scaduti della tassa sui rifiuti Tari è di circa 20 milioni tra gli importi scaduti secondo il dossier 1,2 milioni sono le tasse ancora da pagare da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri e 6 milioni dal Ministero dell'Interno diversi ministeri in ritardo con i pagamenti 2 milioni il Ministero dei Trasporti 1,7 il MIBACT 1,5 il Ministero della Giustizia 1 milione di euro il Ministero dello Sviluppo Economico per fare solo qualche esempio in oltre 369 mila euro di Italia arretrata aspettano la Camera dei Deputati chiara la linea tracciata dal Campidoglio per recuperare i crediti di Ama come ha detto appunto l'amministratore delegato utilizzeremo lo stesso sistema che viene utilizzato per i cittadini quindi prima ci sarà possibilità appunto di una retellizzazione per evitare che vengano appunto iscritti a ruolo poi successivamente se non si procederà in questo senso si agirà come per tutti i cittadini Una notizia di servizio che andiamo a leggere dal sito del messaggero perché era previsto per giovedì uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale ebbene il prefetto riduce lo sciopero a 4 ore stop ai mezzi giovedì dalle 8 e 30 alle 12 e 30 Ha compiuto 80 anni qualche giorno fa il gazometro storica struttura del quartiere Ostiense simbolo dell'industria di Roma tra abbandono e degrado delle aree circostanti è stato un compleanno triste e ora c'è chi chiede ai beni culturali di farlo diventare un monumento dell'archeologia industriale 1935 sindaco Ernesto Nathan l'ansaldo di Genova effetto il collaudo delle lamiere e dei profilati che alla fine dei lavori commissionati dall'allora società Italgas 1937 sarebbero diventati 3.000 tonnellate terzo colosseo di Roma per qualcuno il gazometro il gigante d'acciaio dismesso dal 1960 compie 80 anni la storia del novecento romano è simboleggiata dal gazometro per me il gazometro è uno dei simboli di questa città non meno del colosseo che ne rappresenta l'età antica e non meno di altri monumenti che ne rappresentano altre fasi il gazometro rappresenta il novecento romano il suo lavoro manuale la crescita tutto attorno del tessuto delle sue migliori realtà popolari dei quartieri operai di Testaccio di Garbatella di San Sabba ecco questo rappresenta il gazometro attorno a questo nucleo insieme agli ex mercati alle fabbriche della Romana Gas a tutti gli altri insediamenti ai magazzini generali alla Dogana è cresciuta nel novecento la centralità dell'industria romana e è cresciuta la città di Roma tutta un compleanno festeggiato con le istituzioni e con nomi come Ferzanot Spetec all'ombra del gazometro si svolgevano le storie delle sue fate ignoranti ma le luci sono praticamente e metaforicamente sempre più spente intorno dopo solo due stati di eventi è calato il buio lungo il tratto più abbandonato del lungotevere vegetazione incolta degrado e piccoli temporanei insediamenti abusivi la fanno da padroni mentre la riva portuense lentamente fiorisce la riva ostiense vive ancora in agonia nel cuore eppure di un quartiere che da quei tempi quelli del gazometro acceso ha subito la trasformazione da cuore pulsante dell'industria polo della cultura e del terziario il manufatto complice la mancata zincatura rischia di fare la fine di una tramoggia demolita qualche anno fa perché pericolante la casa della scienza è stata alla fine installata altrove il neonato comitato luci sul gazometro ora chiederà al Mibact di imporre un vincolo e trasformare il gazometro in un vero e proprio monumento di archeologia industriale di Roma in questo contesto il gazometro e tutta l'area dell'Italgas purtroppo è la grande incompiuta di quest'area perché persino sulle aree dove si scontano tante difficoltà come il cantiere degli ex mercati generali di nuovo immobile che ancora sconta tante problematiche c'è una progettualità e c'è comunque il percorso in itinere sull'area del gas c'è il nulla e con i gazometri là dentro a simboleggiarne invece l'altezza storica prima ancora che fisica è indispensabile invece guadagnare da subito una progettualità seria lo sport il calcio Lucas Leiva è arrivato nel ritiro di Auronzo di Cadore vediamo la foto con l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi dal sito la Lazio siamo noi le sue prime parole nel ritiro Forza Lazio ha scelto un grande club Inzaghi prova addirittura tre moduli nella decima giornata di ritiro oggi ha parlato anche Lukaku brava Lazio Leiva un ottimo acquisto i tifosi mi danno la carica altra indiscrezione di mercato il West Ham sarebbe pronto a sborsare 32 milioni di euro per Keita su cui però c'è sempre forte l'Inter vediamo anche le notizie dal mondo giallorosso perché anche qui si sta per chiudere una trattativa perché come leggiamo dal sito della Roma 24 è praticamente fatta per De Frel scambio di documenti in corso con il Sassuolo riscatto fissato a 20 milioni di euro tre in questa sessione saranno versati nelle casse del Sassuolo la Roma è negli Stati Uniti nella tournée americana ha parlato di Francesco ormai certo nuovo acquisto De Frel di Francesco ha detto voglio creare una grande competitività nella Rosa ha parlato anche un altro ne ha acquisto con Alon che arriva da Lione qui ottime infrastrutture per allenarsi è il terzo giorno di allenamento a Detroit per la Roma lavoro tattico e schemi su calci piazzati e in conferenza stampa come abbiamo letto le parole di Francesco e Gonalon ha parlato anche Alisson vogliamo vincere un trofeo l'anno scorso però pensavo di giocare di più allora il nostro consueto punto sul calciomercato di Roma e Lazio nel prossimo servizio Baldo Righetti cosa pensi del mercato della Roma fino ad oggi? un mercato ancora in fase di sviluppo gli elementi presi sono molto interessanti altri ne arriveranno proprio per essere integrati nella tipologia di gioco che vuole sviluppare Eusebio Di Francesco quindi stiamo solo all'inizio io sono soddisfatto soddisfatto del pensiero delle strategie trattiche che sta portando avanti anche la società non so se riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi questo sempre rimane difficile ma bisogna avere fiducia fiducia anche nel lavoro di Eusebio Di Francesco quali sono i rischi dopo le cessioni comunque eccellenti che ci sono state? il rischio non bisogna avere paura del rischio rischiare ti dà coraggio consapevolezza dei propri mezzi e avere anche la mentalità giusta di affrontare le situazioni è una Roma tra virgolette nuova perché qualche elemento è andato via ma gran parte del gruppo quello forte soprattutto se analizziamo il centrocampo abbiamo il capo cannoniere del campionato scorso rimane forte quindi bisogna integrare degli elementi validi per poter sfruttare poi quello che è il pieno potenziale l'espressione del gioco di Eusebio Di Francesco che è un gioco molto dinamico veloce di grande resistenza e questo prevede che bisogna poi intervenire sul mercato con elementi di struttura anche fisica adatti a questo tipo di gioco probabilmente è l'affare biglia a scuotere il mercato della Lazio la cifra ottenuta dall'Otito dalla società rossonera di fatto ha messo le condizioni giuste per far sì che anche gli altri dissidenti o meglio coloro che non gradivano rinnovare il contratto come Kete e De Frai fossero al centro delle attenzioni di molti club che adesso però devono pattuire una cifra adeguata sembra il caso dell'Inter che vorrebbe portare con sé il giocatore in Cina il senegalese sarebbe il profilo ideale per Luciano Spalletti da sempre gradito a Sabatini e soprattutto Sabatini può vantare beato lui un buon rapporto con Calenda e da questo punto di vista stavolta sembrano esserci tutti gli ingredienti per un altro colpo in uscita solitamente non si festeggiano le cessioni soprattutto di giocatori importanti ma è evidente che con queste cifre la Lazio può far decolare il suo mercato in entrata e dopo aver trovato il suo rogato di biglia e Lucas Leiva potrebbe puntare tutto sulla nuova speranza iraniana Asmun che sembra essere un pallino fisso di Tare tanto che la Lazio sarebbe disposta a dare quasi una cifra vicina ai 20 milioni di euro al Rubin Kazan per il resto c'è ancora da sistemare molto del mercato in uscita dai giocatori che sono rimasti a Formello vedi Marchetti Maurizio ed altri a quelli che sono poi andati in ritiro come Giorgiovic a giocatori come Cataldi in procinto di andare al Benevento e questo consentirà la Lazio di inserire un nuovo italiano come Davide Di Gennaro certamente però adesso la Lazio è chiamata a fare i colpi che permetteranno ad Inzaghi di stipulare finalmente decidere quello che potrebbe essere il potenziale 11 contro la Juventus il 13 agosto in Supercoppa i contatti della nostra redazione per le segnalazioni potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolateleroma56.tv sulla nostra pagina Facebook e su Twitter all'account chiocciolateleroma56 tutto per stasera grazie per l'attenzione arrivederci grazie per l'attenzione